Siamo qui con Emanuele Ricci, è appena finita la partita e l'Atletico Ferentino è riuscita in questa impresa di andare in finale e battere per 2 a 1 a Lazio Calcetto contro ogni pronozio possiamo dire? Sì, partiamo un po' da sfavoriti come si suol dire, però comunque abbiamo preparato questa partita al meglio e con tanta forza, con tanto cuore siamo riusciti a portare a casa il risultato. Sì, come recita appunto il finale, è stata una partita tiratissima fino all'ultimo, risultato in bilico. Sì, abbiamo lottato fino all'ultimo su ogni pallone, comunque penso che alla fine la nostra difesa ha pagato perché siamo riusciti comunque a difendere bene su tutti i palloni, con tutti i mezzi e niente, siamo riusciti a non prendere collo. Sì, sei stato votato dai nostri esperti in tribuna, uomo partita, migliori in campo, proprio tu che sei uno degli ultimi ad essere arrivato qui a Ferentino. Sì, sì, vi ringrazio, comunque da poco sono venuto a Ferentino, il mister, la squadra, la società mi hanno accolto tutti quanti a braccia aperte, è una grande famiglia più che una grande squadra, sono felicissimo di questo. E noi per questo ti consegniamo lo scarpino offerto dal nostro sponsor Agla e complimenti. Grazie mille, grazie mille a tutti.